lenti fumatori buongiorno vediamo oggi un tabacco di gay with hogart il brown house che abbiamo trovato solo recentemente l'anno scorso diciamo 2020 abbiamo trovato sfuso da sinieco quindi grossista rivenditore svizzero il tabacco consiste nell'unione in una treccia di virginia flu cured quindi curato ad aria indotta e dark fire kentucky io credo non è ben chiaro se sia virginia o kentucky curato a fuoco dark fire credo kentucky però tabacco review riporta kentucky poi il tabacco viene appunto intrecciato e poi tagliato a fettine quindi il risultato è un taglio un taglio a coin questi sono gli ultimi rimasugli di 50 grammi quindi sono anche le rimanenze più piccole questa lattina che vedete non è di questo tabacco tabacco che ho acquistato sfuso allora i profumi sono invitanti il motivo per cui mi sono convinto a prendere questo tabacco che poi come vi dirò in fumata cioè il senso generale è che non mi è piaciuto tantissimo è un tabacco meritevole comunque buono va a gusti ad amici ben più autorevoli di me ma ovviamente con gusti diversi è piaciuto a me è semplicemente un tabacco accettabilissimo un tutto giorno di qualità ad averne in italia tabacchi così di questa qualità però insomma non rappresenta per me una fumata che rifarei e rifarò volentieri comunque il profumo è un fantastico profumo dolce ma anche leggermente acido mi sono dimenticato di dirvi che ha un'aromatizzazione allo sciroppo d'acero che non dovete immaginare come nulla di assolutamente troppo invasivo o permeante ecco è solamente una dolcezza in più un pochettino di sapore in più quindi sentiamo dei dei profumi erbacei vegetali ma intensi non non blandi anche un qualcosa di più terroso e di più affumicato ma debolmente affumicato comunque qualcosa che penetra più profondamente nelle narici e poi questo acidello questo acidello è nel contempo zuccherino di questa aromatizzazione aromatizzazione che a mio modo di vedere bagna notevolmente il tabacco non da renderlo infumabile ma comunque necessita un pochettino di sfibramento tra le mani o qualche minuto una decina di minuti all'aria non esagerate perché sono a perdere le sue caratteristiche comunque dieci minuti all'aria non gli fanno male per una conduzione di fumata migliore e rimane come vi dicevo un tutto giorno piacevolissimo secondo me con un livello di nicotina medio ha la tendenza a scaldare se vi fate prendere dalla golosità e fate boccate frequenti tende a scaldare e di conseguenza più che a scaldare a pizzicare un po la lingua e a perdere un po di sapore ma questo è lo scherzetto che mi fanno un po i tabacchi di questo genere qua mi viene in mente come paragone il dark twister all cake di mc barren trovate il video sul canale anche lì un tabacco che ho apprezzato ma che non ho più ricomprato fino ad ora perché 100 grammi ho fatto un po di fatica a finirli per gli stessi motivi sostanzialmente di questo troppo calore troppo bruciore sulla lingua e un po mi ha dato a noia ecco anche lì c'era kentucky lì c'erano anche c'era anche del black cavendish quindi la modalità di aromatizzazione lì era diversa il virginia o non so se barley o virginia è diventato black cavendish e quindi lì effettivamente aveva una un'aromatizzazione anche lì non esagerata ma più sostanziale ecco in questo caso secondo me è stato spruzzato profumato ecco è un'aromatizzazione abbastanza blanda lo stiamo fumando oggi nella fantastica gilli mini lb pipa dell'anno 2020 dei lenti fumatori del tubo ormai posso dirlo perché è passato un bel po di tempo questa pipa si è rivelata una pipa formidabile per ora la sto fumando solamente con virginia, virginia kentucky, virginia peric ha fumato tanto bass brown, tanto full virginia flake, ha fumato il twist and see di moztac tac ha fumato questo qui insomma tutti i tabacchi base virginia e posso dire che è una pipa formidabile si è rivelata perfetta per ogni per ogni situazione al tabacco do una sufficienza meritatissima come sapete è sempre questione di gusti per i miei gusti questo non è un tabacco che ricompro e che fumo piacevolmente però come al solito ora che sono alla fine ho apprezzato certe caratteristiche certe cose che all'inizio non mi andavano tanto giù ora le ho rivalutate vi consiglio come al solito se avete possibilità di provarlo e di farvi un'idea che è come al solito la cosa migliore i gusti sono diversi e per giunta cambiano nel tempo non è detto che tra cinque anni magari questo tabacco diventerà uno dei miei preferiti ecco quindi da qui l'utilità dei miei video delle mie impressioni è sempre relativa ecco è più come al come al solito per tenerci compagnia scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi iscrivetevi e ci vediamo sulla pagina instagram dei lenti fumatori del tubo sulla pagina facebook dei lenti fumatori del tubo sulla pagina sul gruppo telegram dei lenti fumatori del tubo vi lascio tutti i link che servono qui sotto in descrizione si fuma bene un tabacco che si gli si dedica un minimo proprio minimo sindacale di attenzione si porta avanti tutta la fumata tranquillamente c'è sempre una dolcezza piacevole avrei insistito forse un pochettino di più con il kentaki ecco renderlo piuttosto una miscela un po' più un po' più forte anche di nicotina un po' più ecco avrei o abbondato con kentaki e con gusto o sarei stato indietro per renderla magari una miscela che non scalda così tanto ecco non so al di là del cambiare questa miscela è quello che preferisco allora o preferisco miscele più tranquille più più improntate sul virginia magari in flake combustione più lenta le miscele a cui sono più abituato diciamo o avrei preferito un virginia kentaki deciso come il lakeland dark come il 1792 che anche lì c'è l'aromatizzazione ecco questo lo trovo un po' un ibrido che non mi aggrada al massimo però è da provare ciao da moreno al prossimo video ciao 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 ciao